Alla Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Barberini è stata inaugurata la mostra Giri Collar e il Collage Ceco. Organizzata nel quadro degli scambi culturali fra il nostro paese e la Repubblica Ceca, l'esposizione presenta, come recita esplicitamente il suo titolo, le opere che limitatamente alla tecnica del collage documentano l'evoluzione delle ricerche linguistiche svolte in questo paese. Si parte da quelle di Giri Collar, l'artista che può essere considerato il vero e proprio caposcuola, un autore estremamente rappresentativo nel quadro delle esperienze dell'arte contemporanea di questa seconda metà del secolo.